E parteciperanno tutti i nostri amici! Se è così facile, qual è la risposta? Per svegliare questi orsetti, fate come me! Dimenatevi come fa una medusa in mare! No, non ascoltarli, Pio! Il miglior colore in assoluto è l'azzurro! Ci penso io! Un momento, maestà! Ve ne taglierà una fetta io stesso! Wow! Che giocattolo resistente! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! Tutti parlano del nostro spettacolo! Ci sarà la sala piena stasera! Beh, che cosa ci fai tu qui? Buonasera, Paperina! Oggi sei più bella del sole! Caspita! Dove saranno Pippo e Tudos? Non lo vedo da nessuna parte! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno!